Un centesimo di seconde nella prima semifinale dei 100 metri ed è rimasto fuori Crawford, medaglia d'oro a Montreal in prima postura, in seconda, mentre vediamo di spalla Mennea Crawford con Mennea a tirare ad un risultato, ad un primato mai tumore raggiunto, quello di partecipare a tre finali consecutivi ecco fuori ho passato tutta la mia vita a lottare contro il tempo nel tentativo di sottrargli anche solo un millesimo di secondo non è quello che facciamo tutti rincorrere il tempo per capire forse che il tempo non esiste è che corriamo solo verso noi stessi mi chiamo Pietro Mennea sono un velocista Pietro? 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 tieni a mamma, tieni, porta questi pantaloni al signor Bruno e poi torna subito a casa che devi fare i compiti grazie a tutti grazie a tutti